Ragazzi, ho visto fare un sacco di confusione tra il filtro FAP e il filtro DPF, ma quali sono le differenze tra i due? Allora, partiamo dal presupposto che entrambi hanno lo stesso scopo, è quello di abbattere il PM10, le nostre particelle di fuligine, ma funzionano in modo diverso, tra virgolette, come? Diciamo che il filtro FAP è nato, i primi filtri che sono nati, appunto, il filtro FAP è nato dal gruppo Peugeot. Il gruppo Peugeot ha aggiunto un additivo che è il biossido di cerio, la cerina, c'è un serbatoio aggiuntivo di 5 litri che viene poi miscelato con il nostro gasolio per poter dare la possibilità di abbassare le temperature di rigenerazione del nostro filtro. Il DPF, invece, come vi ho già spiegato in un altro video, ha di contro sicuramente che è a temperature molto più elevate, quindi deve arrivare per forza sui 600-650 gradi per poter rigenerare, ma per arrivarci non usa nessun additivo, ma adoperiamo post-iniezioni, quindi quelle post-iniezioni ci hanno la possibilità di aumentare le temperature nel nostro scarico, quindi nel nostro filtro DPF, per poterlo far rigenerare, che ci va poi a bruciare tutte le particelle di PM10 assottigliandole. Ragazzi, semplicemente il FAP e il DPF sono analoghi nel loro scopo, ma molto differenti nel loro funzionamento. Uno ha bisogno di un additivo, il filtro FAP, il DPF, invece, il contrario, non ha bisogno di nessun additivo. Pro e contro. Il pro è sicuramente che il DPF abbiamo temperature più basse, come vi dicevo, il suo contro è che abbiamo il biossido di cerio da poter miscelare con il nostro carburante. Ragazzi, semplicemente, in due parole, ecco il filtro FAP e il DPF. Ciao ragazzi, alla prossima!